Ciao, siamo qui oggi, domenica 18 febbraio, ore 10, appuntamento con tutti gli amici del Meetup e altre associazioni ciclistiche. Facciamo una pedalata da bocca d'asse fino a caricamento. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare sia la gente sia l'amministrazione pubblica sulla mobilità ciclabile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.